22 scatti per raccontare una storia, quella di 4 abitanti la baraccopoli di Kibera, Nairobi, in Kenya. 22 scatti per mostrare come si vive, si riesce a sorridere ed essere contenti di piccole cose in uno slam ritenuto il più popolato d'Africa. Sono le foto di Francesco Cavalli, fotografo, vicepresidente dell'ONG Amani, che con questo reportage ha voluto far conoscere una delle periferie sconosciute del nostro mondo, dove circa un milione di persone vivono nell'indifferenza dei governi. Che nonostante le situazioni all'apparenza per chi è che arriva dall'Occidente, chi è che arriva dall'Italia, dall'Europa, si trova di fronte a delle situazioni che nella migliore delle ipotesi vengono considerate drammatiche. Nonostante questa drammaticità che c'è, che è evidente, quindi con tutta la fatica di vivere nelle periferie, trovi nonostante questo, una voglia di vivere, una positività, un entusiasmo e una prospettiva di vita che alcune volte è forse la cosa che ti disarma di più. Più ancora che non vedere quello che sono le condizioni di vita nelle quali vivono queste persone. Gli abitanti di Kibera hanno delle condizioni di vita molto dure, ma rappresentano anche una comunità che ogni giorno lotta per combattere problemi come la violenza sulle donne, la criminalità, l'HIV, la difficoltà di accesso alla scuola o alla cultura, cercando di stimolare l'attivismo giovanile e i processi di cittadinanza attiva che partono dal basso. Un po' lo scopo di questa mostra è questo, cioè attraverso queste quattro persone, questi quattro ragazzi, due ragazze e due ragazzi che abbiamo seguito nella loro attività, che è quella di studenti, sono quattro studenti che attraverso un percorso universitario cercano una propria prospettiva di vita, un proprio riscatto dalla povertà o dalle periferie delle quali vivono e quindi è una mostra del quotidiano, della vita quotidiana attraverso le condizioni di vita di queste quattro persone. In accompagnamento alle 22 fotografie, i visitatori della mostra possono approfondire alcune questioni relative alle periferie in Africa, grazie agli articoli della rivista Nigrizia dei missionari komboniani. Vederle queste foto fanno pensare, ma viverci dentro come fate voi komboniani da anni e anni? È un po' più difficile, comunque ci si abitua, anche perché si è motivati, cioè come diceva il nostro fondatore, bisogna fare causa comune con quelli che sono più poveri, più abbandonati e quindi le difficoltà ambientali, anche fisiche, se si vuole, sono superate dalle motivazioni, dall'obiettivo che abbiamo, quello di stare con la gente, lavorare con loro e cercare di trovare delle soluzioni ad una vita che sembra dannata. Grazie a tutti.